Ciao a tutti e benvenuti nel video di inizio anno, buon anno in ritardo, come sempre sulla neve stavolta non su Ishi Comunque per aggiornarvi perché negli ultimi due mesi non ho pubblicato video, adesso con il 2019 riprenderemo Sono stato un pochettino occupato, perché per chi non mi segue su Instagram, adesso sto frequentando l'Apple Academy Per lo sviluppo di applicazioni sono un po' più impegnato, comunque la programmazione riprenderà nei prossimi giorni Abbiamo dei monitor nuovi, sia entry level che di alto livello E anche quest'anno vedremo prodotti aggiornati sul canale, droni soprattutto, devo sempre trovare il tempo di farvi vedere Qualcosina in più sui prodotti Apple, adesso ho anche l'iPhone XR MacBook Pro è roba varia, come abbiamo anticipato anche l'anno scorso Sempre in collaborazione direttamente con loro, comunque l'esperienza di utilizzo è buona Magari un approfondimento direttamente sul telefono ci può stare Oltre a questo comunque io vi ringrazio come sempre per il supporto anche nel 2018 Anche quest'anno andremo a Barcellona, vedremo tutte le novità presentate, i telefoni in anteprima E i tutorial vari, secondo come sempre i vostri feedback Quindi il video è sempre per augurarvi buon anno Ringraziarvi come sempre di tutti i commenti, i like e tutto quello che c'è Per seguire più da vicino il tutto vi segnalo chiaramente il profilo Instagram sulle storie Vi ho fatto vedere comunque tutto lo scenario lì direttamente sui post Dall'alto col drone e tutto quello che di bello comunque c'è che viene visitato Quindi anche tra piccolette questione viaggi Quindi di nuovo, grazie come sempre, il video molto rapido direttamente da qui Sono in Abruzzo, arrivi i sondoli E noi ci vediamo prossimamente, tra non molto, con il prossimo video Che sarà molto probabilmente a tema monitor